Musica L'ispettore di polizia in pensione Baciché da qualche giorno ha lasciato Pago Vallo Lauro, comune dove ha sempre vissuto ed anche svolto la sua professione. Baciché, vittima di un attentato a febbraio, ha deciso di andare via perché, come cittadino, non si sente al sicuro e perché, a distanza di circa due mesi da quell'attentato, tutto resta ancora avvolto nel mistero. Un grave episodio sul quale c'è massima attenzione, ad affermarlo è stato il questore. Abbiamo costituito un gruppo ad hoc soltanto per questo episodio, che le energie che stiamo approfondendo sono molto, molto consistenti e che, trattandosi di un episodio particolare, su una zona particolare, che noi monitoriamo costantemente, sicuramente ha la priorità sul tavolo del capo della mobile e di conseguenza del questore su tutte le altre attività che stiamo compiendo. I mezzi li abbiamo, abbiamo anche la collaborazione della squadra mobile di Napoli, della sezione criminalità organizzata, quindi abbiamo sia mezzi che persone professionalmente preparate e che stanno indagando su questo episodio. Poi naturalmente l'esito è qualcosa su cui io non posso pronunciarmi, almeno al momento.